Paola B. su Facebook. 7 dicembre 2016 alle ore 21.02. Lorenza Ricchiuti, deputata PD. Sono appena tornata dalla direzione del mio partito. Una farsa. Ha spaccato il paese in due e parla di PlayStation. Decine e decine di persone arrivate a proprie spese da tutta Italia. Maria Chiara Prodi da Parigi con il figlioletto di cinque mesi in braccio. Mi sono vergognata per lei. Non si è discusso di nulla. Lui ha parlato del nulla. Ha deciso lui come e se si farà un nuovo governo. Ha deciso lui chi farà parte della delegazione, Orfini, Guerini, Zanda e Rosato. Il segretario, cioè lui, non ci sarà. Senza contare che la composizione della delegazione dovrebbe essere comunicata prima a Mattarella che con lo streaming. Ha deciso lui quando e se si parlerà di quello che è successo il 4 dicembre. Ha deciso lui che la direzione doveva durare il tempo del suo intervento. Ha deciso lui che non ci potessero essere repliche. Hanno impedito a Toci di parlare, stava imbastendo un ragionamento ma non ci è riuscito. Fine della storia. Che cos'è rimasto di democratico in questo partito?